Scelti i nomi entra nel vivo una campagna elettorale con porte chiuse o socchiuse per la maggior parte dei candidati. Già perché a fronte dell'esercito di nomi sparpagliati nelle venti liste c'è posto per eleggere solo 15 parlamentari marchigiani, cioè nove in meno delle elezioni 2018 in virtù di una legge sul taglio dei parlamentari da 945 agli attuali 600 che ridurrà le elezioni nelle Marche a 10 deputati contro i 16 della precedente tornata elettorale e ad appena 5 senatori contro gli 8 che si eleggevano fino a 4 anni prima. Come si vota? L'elettore avrà due schede identiche, una per la Camera dei Deputati e una per il Senato con una sola X da barrare per ogni scheda, o sul candidato uninominale o sul simbolo di partito. Barrando il simbolo il voto andrà al candidato del collegio uninominale e al suo partito per la parte proporzionale. Barrando invece il nome del candidato del collegio uninominale il voto andrà poi distribuito proporzionalmente ai partiti che lo sostengono. Non sarà possibile il voto disgiunto. Per la prima volta per votare i senatori sarà sufficiente avere 18 anni e non più 25.